Abbiamo chiesto una riunione della Comissione Centrale con il Ministro dell'Armonia per attendere le parti della violenza relazionale che ci sta subendo le nostre comunità. Abbiamo notato di differenze case con il grado di violenza che si riuscita, e l'ultimo che ci sta con una conseguenza fatale. Il 4 di dicembre è importante che ci sta con un plan nazionale contro la violenza domenica e l'abuso che si riuscita nel 2018 e che si riuscita il cammino nel 2019 e 2020. E anche ci sta con un plan nazionale contro la violenza domenica e la violenza domenica. Non ci sta con un poli che si riuscita un momento in caso di violenza domenica e ci sta con un protocollo. Però è importante che ci sta con un plan nazionale contro la violenza domenica e ci sta con un plan nazionale contro la violenza domenica. Sicuramente, ci sta con un plan nazionale contro la violenza domenica e ci sta con un plan informativo e strutturale. Ci star con un plan nazionale contro la violenza. E non per giocare Horizonale. Ci sta con un valore mentre ci sta con un'agredito e ci sta con e con una persona che sta con un branco. completo di una bataille fraude di scuola, prima, romana, vuela, tata, vicina, collega di una persona che sta passando in una situazione, che i nostri strumenti stanno passando di violenza relazionale e i nostri strumenti stanno passando di informazione corretta per passare in una situazione.